Per la Cassazione, nell'ambito dell'inchiesta sul presunto concorso truccato a Riviera Acqua, la società pubblica di gestione del ciclo idrico, non è configurabile il reato di truffa, ma soltanto quello di rivelazione del segreto d'ufficio. La sentenza, le cui motivazioni saranno rese note nell'arco di tre mesi, fa seguito al ricorso presentato dai legali di Gabriele Saldo e Federico Fontana contro gli arresti domiciliari chiesti e ottenuti per i due indagati dalla Procura d'Imperia. L'inchiesta vede coinvolti in totale 11 indagati e la pronuncia della Cassazione potrebbe modificarne sostanzialmente la prosecuzione, soprattutto per quanto attiene alle decisioni della pubblica accusa che dovrà disporre la richiesta di rinvio a giudizio o di archiviazione. I legali di Saldo e Fontana hanno sostenuto la tesi che l'assunzione di uno dei partecipanti al concorso, anche se eventualmente avvenuta grazie ad anticipazioni relative ai test, non avrebbe comunque causato alcun danno alla società pubblica.